Ivedes non so bene come si pronuncia, poi mi correggerete nei commenti, però è vicinissimo alla Juventus ed è vicinissimo alla Juventus perché con indiscrezione ieri di alcuni intermediari del Corriere dello Sport hanno fatto capire che il calciatore ha accettato la Juve, quindi potrebbe chiudersi a fare intorno ai 10-12 milioni di euro poi non so, le cifre non sono certe. Chi è però Avedes? È un calciatore tedesco di 29 anni che ha giocato da titolare, questa è una statistica molto interessante, la Coppa del Mondo del 2014 con la maglia della Germania e indovinate chi l'ha vinta la Coppa del Mondo del 2014? Proprio la Germania battendo in finale 1-0 l'Argentina di Messi con un gol di Mario Gozze nei tempi supplementari Avedes era lì, si è giocato 120 minuti tenendo a bada Messi e Iguain e pure Aguero se non sbaglio giocò praticamente per tutto il tempo. Un difensore roccioso, un difensore duttile, può fare il terzino destro, il terzino sinistro il difensore centrale, può fare anche il libero all'inizio della carriera lo faceva un difensore soprattutto molto 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 interessante che secondo me nelle dinamiche della Juve potrebbe entrarci bene lo preferisco a Garai sinceramente e niente, niente da dire. Insomma non è sicuramente fra i primi 10 del ruolo, l'avevo già detto ieri però parliamo di un ottimo calciatore. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate mi raccomando sempre in gamba, ciao!